Marco Armani, ma che ci fai a Bari? Sono venuto qui in fretta e furia, toccata e fuga, perché ogni tanto ho proprio bisogno di rivedere il mio mare, di rivedere la mia città e di rivedere la mia famiglia. Quindi spero, anzi come appunto ti stavo dicendo prima, un giorno di ritornare proprio a viverci, a riviverci, perché sento proprio il bisogno delle mie radici e della mia città, anche perché è diventata molto più bella rispetto a 30 anni fa. Come racconteresti Bari a chi non la conosce? Beh, innanzitutto Bari, anche se non ha storicamente delle cose importantissime, è stata molto rivalutata, c'è questa Bari vecchia straordinaria, si mangia da Dio e devo dire che i bareggi sono cambiati in meglio, sono diventati più accoglienti, sono diventati più campanilisti in qualche modo e aperti soprattutto al mondo esterno, che è una cosa meno provinciale di bene. Ti abbiamo visto di recente in tv, ma quando ti riascolteremo nelle radio? Guarda, vorrei incrociare le dita, ho un progetto che spero ci possano essere delle coincidenze per farlo venire fuori. Tutto è possibile, non dico, non do dei tempi, perché può essere come non può essere. Io spero, perché sono ottimista, di sì. In bocca al lupo da valigiamo.it, grazie e alla prossima. Grazie a te, ciao. Ciao.